La firma alla convenzione è finalmente arrivata. Il cortocircuito burocratico scatenato da un errore di comunicazione tra il comune di Erice e l'agenzia per i beni confiscati che aveva travolto gli ex lavoratori della 6GDO da oltre tre anni senza un lavoro è stato superato. I particolari della vicenda sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il sindaco di Erice, Daniele Toscano e l'assessore Valeria Ceravino. La storia del bene affidato è poi rievocato aveva destato parecchio clamore. Una serie di dubbi sulla utilità sociale del bene e le modalità di affidamento erano stati infatti sollevati dal dirigente del comune. Dubbi legittimi che sono però stati ampiamente superati. L'intenzione dell'amministrazione è stata espressa all'inizio del mio mandato e insieme alla mia giunta abbiamo con un atto di indirizzo orientato questa scelta verso la cooperativa degli ex lavoratori del supermercato, quindi quello confiscato agricoli. Ovviamente sono intorcorse una serie di, non chiamiamoli proprio cavilli burocratici, perché questo è il primo caso, credo in Italia, non vorrei sbagliare, penso proprio di sì, in cui l'agenzia dei beni confiscati non affida direttamente ma diciamo demanda al comune. E quindi il caposettore probabilmente piuttosto intempessivo nel senso che avrebbe potuto pensarci un po' prima, però come dire dopo la pubblicazione del bando e dopo appunto che i lavoratori siano costituiti in cooperative e quindi avevano vinto questo bando, ha avuto dei dubbi che ha voluto approfondire. D'altro canto sono atti prettamente gestionali, l'amministrazione può semplicemente dare delle indicazioni, poi l'atto gestionale in sé è di competenza appunto del caposettore. Lui ha voluto fare i suoi dovuti approfondimenti e si è reso conto attraverso anche un incontro, grazie all'assessore Cialavino e anche la disponibilità dei rappresentanti della cooperativa, abbiamo fatto un tavolo di concertazione insieme anche ai rappresentanti sindacali e lì siamo addivenuti a quello che era un fatto dovuto nei confronti di questi lavoratori perché è giusto che il Comune essendo un braccio operativo dello Stato dia in primis l'esempio ed esprima una volontà forte e chiara che nonostante i beni vengano confiscati, che quindi ci sia questo contrasto giustamente nei confronti della criminalità e pur giusto dare una risposta concreta, cioè che queste aziende continuano a lavorare. Quanto tempo ci vorrà adesso prima di far ripartire la vostra attività? Sinceramente questo problemino ci ha creato dei problemi, nel senso perché iniziare a una macchina e riaccenderla dopo che era già stata accesa è difficile, devo essere sincero noi pensiamo che fra fine gennaio e primi di febbraio di poter riaprire questo supermercato perché gli intoppi burocratici ci hanno creato dei problemi ma comunque l'importante è risolverli, li abbiamo risolti, siamo qui che stiamo festeggiando e tutto è bene, quel che finisce bene come suol dire.